e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente dopo tanto 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 tempo non portavo più fare mission editor 2016 sono riuscito a riportarvelo il motivo per cui non l'ho più portato è stato prima di tutto perché avevo avuto dei problemi con il gioco e poi anche per la intro perché praticamente succede molto spesso mandano tipo dei copyright per la musica e così adesso qui ho cercato di riportarmi tutte le cose che avevano la vecchia serie quindi lo state unica cosa che ho comprato i soldi soltanto sono un pochino di più meno male perché comunque ci ho anche giocato con mio fratello qua sulla se sul salvataggio che almeno mi ha aiutato un po andare avanti niente in questo video principalmente taglierò la colza che ho seminato qui in questo campo nell'altro di là se si vede sì ecco e poi nella prossima puntata o nella terza della serie perché diciamo che adesso dovrò un po ricominciare perché questo qui in teoria facendo che è rimasto solo primo video sul sul canale questa qua diciamo che la terza puntata seconda puntata quindi nella terza puntata o nella prossima o nella dopo nella prossima ancora ci sarà anche mio fratello che verrà una mano qua col erpicare seminare magari anche tagliare e spero di ricominciare bene questa serie qua non benissimo però non riesco a riprendere il mio giro di video prima è così ok ecco adesso allora in questa serie qua avrei in mezzo di arrivare a comprarmi il jcb e il magnum no perché tanto sappiamo già più o meno tutti com'è il jcb perché il è il trattore che hanno aggiunto con un aggiornamento che c'è stato in passato con meno dopo qualche mese quando dall'uscita del gioco e provarlo quindi l'obiettivo della serie di questa serie qua adesso sarà di riuscire a prenderci il jcb che deve essere anche fatto molto bene e quindi passeremo tutti i trattori il puma il same il puma il lamborghini il V8 e il V8310 tutti i trattori molto belli con tanta potenza e niente adesso qui dobbiamo aspettare che cresca quindi vi blocco un attimo il video ok ragazzi possiamo ripartire col video in pratica adesso inizierò a tagliare qua la colza che ho aspettato tipo 5 10 minuti dal livello in cui eravamo già durante il video e niente adesso qui taglieremo uno e andremo a prendere se riesco proprio nel video ok ma forse qua ci servono anche un aiuto quindi magari se riesco faccio venire anche mio fratello che va sullo steira sul carro forse quindi faccio questa linea qui il video e aspetto che possa arrivare mio fratello no niente non può entrare e quindi vabbè vi ho scoppato quel minuto lì e basta andremo avanti da soli nella prossima puntata praticamente ovviamente andremo ad erpicare il video durerà tutto il tempo che è erpic sperando che mi carichi questo perchè ultimamente youtube non riesco a caricare i video e arriva al 5% e si blocca anche con 2 o 3% si blocca non so per quale strano motivo ma si blocca il caricamento del video e quindi spero tantissimo che sto video qui allora il campo qui l'abbiamo praticamente già finito beh più o meno per la colza potevano aggiungere anche per il mais e come chiamarlo gli scarti che uscivano potevano aggiungerli che è un po' bruttino vedrano una mia sa trebbiando la colza però non esce niente dal 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 retro che non mi viene metto eh tagliapaglia no tagliapaglia spargipaglia come volete ci mettiamo un attimo a tagliare questo campo qua presumo proprio anche l'altro adesso vedo perché il video adesso più o meno starà insieme alla parte l'altra parte là che vi ho già tagliato che vi ho già sbloccato quel minuto lì ho fatto un minuto qua tre minuti la nella prima parte ancora saranno cinque tre no otto nove minuti di registrazione quindi si vado ancora avanti no ok ho deciso per oggi finisco questa parte qua di campo scarico la miti trebbia vado a vendervi la colza insieme a voi e ok perché il tempo che mi rimane è poco perché dopo devo andare a fare delle cose e niente boh stranamente non ho neanche fatto il 100 per dentro ma solo il 97 sarà anche perché non ho concimato però vabbè ok mamma mia che scatto là perché c'è pochissima roba dentro il carro mi stanno chiamando su whatsapp scusate si su skype scusatemi quindi però tornato sono passate quattro ore da quando avevo iniziato a registrare pensate soltanto che sono stato occupato fino adesso quindi adesso ricomincio qui e in pratica ho finito di tagliare la colza guardo un attimo ok non c'è niente adesso andiamo a vendere la colza come ho già detto prima e puoi finire di farvi vedere che tagliavo questo campo qui però fa niente tanto di cresce e adesso non mi ricordo dov'è ok prendo la str- no sono la parte opposta da una r- destra rispetto a prima parlerò un po' più a bassa voce perché devo parlare piano però niente spero che mi sentiate no dove sto andando ok come sempre questo video qui cioè no purtroppo il video l'ho spezzato perché una volta mi chiamò mio amico su skype l'altra per le altre volte io ho bloccato tre volte ma se non avessi bloccato avrei fatto tipo solo due parti o addirittura una parte bloccando quindi di conto mio ma invece invece non ho potuto e vabbè adesso mi mettiamo ancora qui si meno male la schiena ok 71 metro buono 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 aspetta un attimo ancora però perché comunque voglio tenermi un po' di soldi ecco allora ecco voglio in mente magari poter magari di fare le pecore serve un questo mamma e questo che non so bene quanto cioè tenga tiene 34.000 costo però mi sembra molto alto guardate eh sì 94.000 cioè prendo la falciatrice quindi aspettiamo tipo ad arrivare a più di 100.000 tipo 200.000 proprio mi voglio dire il trattore che posso prendere con 300.000 euro perché 300.000 euro ti puoi prendere anche un T8 se non mi spunto giacissimi punto in alto rispetto all'altra riuscirò a finirle cioè l'altra sì diciamo perché come sapete ho avuto il problema e purtroppo perché no non con farming colpa mia perché il mio account di playstore e niente se sentite casino scusatemi allora dunque come ho già detto prima adesso riferiamo a casa e vi saluto con il campo lì lo vedremo la prossima volta tipo un video che uscirà domani o dopo non so quando è che uscirà ed erpicheremo e niente per questo video è tutto ciao a tutti ragazzi e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti